Cosa cosa? Un video? Chi avrebbe mai detto che sarei ritornato? Salve a tutti, qui è Ola Burro che vi parla e niente, son tornato, sono scomparso per un po' perché sono stato rapito da dei mammut intelligenti e mi hanno fatto degli studi sopra mi sono liberato e sono qui, adesso, dopo una lunga assenza pronto a ricominciare come vedete ho avviato una partita classificata, top bot, ad gherry e vediamo cosa succederà sono in promo, in flex, bronzo 1 Aspettate, ecco, bronzo 1, sono in promo per entrare in silver e come non celebrarlo, celebrarlo con un video, no? Che dite pure voi? Che mi raccontate? Io, una novità che vi posso dire è che ho aperto un canale su Twitch Ovviamente non c'è quasi nessuno, eh? Cioè sono tipo 6-7 persone Ma meglio di niente, no? Vi lascio il link in descrizione ovviamente perché se no qua è su via Non è che potete, siete onniscenti di tutto O sbagli o Ok, ok, ok Vediamo un po' chi abbiamo Occhio, che palle Yasuo top contro di me Kane giungla Poi ho visto Alistar Support Ah, guarda questo voleva giocare Twitch perché Molto probabilmente era perché ha vinto la skin Allora ho detto dai su proviamolo In rank ed anche se sono next gold Facciamo perdere la promo Allora, allora, allora Dai su Annaccia Lucian, mid, che non lo vedo dagli anni di Cristo Ah, io, 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 io C'è un oxaia Vabbè dai Vediamo un po' come andrà questa partita Aspettate un attimo ci sta Oh, che feco Vero e tra un po' ci sono i mondiali che non sbaglio Sono i mondiali, non mi ricordo, lo sapete Non ricordo proprio Però mi ricordo che c'era qualche tempo Un torneone giganterrimo Vedete se no ci sta quello da 2017 Se no non c'era, no? Che dici? Pure teologo Questo gioco mince Perfetto Prendiamoci un po' di pizza Fammi fare almeno a livello 3 Dai, non l'ho stunnato Ma vaffanculo Basta, 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 vai via Vedi che non ci sono Perché rimani? Io non ci vengo Mi raccomando, dagli pure il primo sangue Mi sono andato proprio addosso E vai Mamma mia Senti le botte, le botte No, 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 no Ok Perfetto What the fuck That what? It's kill Ora mi bugherà l'anno tantissimo Perché si è incazzato Guarda, eh Bravissimo Spero che sia uno di quei Gli asuo Dico Cancerogeni Che fidano come le merde E non quelli là che Basta una kill Anzi Basta tipo un minion in più rispetto a me Ci ara tantissimo Perché non mi va proprio E io non so più prendere I minion Ah, perfetto Un altro Costiamo 43-41 minion Ci sta tantissimo Anche se In teoria con Renekton È leggermente più facile fare I minion rispetto alla norma Arrivo, 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 arrivo Ok Perfetto Mamma mia Che giocatona Facciamoci un po' danni alla torre Così almeno Due E tre Andamocene via Se no questo qua Già mi ingaggia Vedi, vedi Visto, visto Guarda, sono più veloce di te Bello Bello Ambello Adesso lo vuole fare? Lo vuole fare? Ah? Lo vuole fare? Mi ingaggia? Ah, non credo proprio Adesso sono cazzi tua Perché adesso faccio così Faccio così Faccio così Ma se ti faccio più male io È inutile Basta, basta C'è più solo le pizze così Slalom, slalom, slalom Anche a poco per la fine Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda che faccio Guarda che faccio Olè Come sta andando qui? Vabbè dai Se lo sta mangiando per bene E qui botte Vabbè, è normale Eccolo È arrivato Complimenti Complimenti È brevissimo Ok Ma qui Non ce n'è traccia La torre manca Vi faccio questa wave Se lo ammazzo Molto meglio Ok Non lo so 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 Sì Mi ha sta zitto Vedi che ha paura Di me ha paura Aia Mi ha nullatore Il dash E vabbè Non ci posso fare nulla Ma lui vuole Eh Lo so Lo so Lo so Lo so Fammi andare via Se no Questo qua Mi ammazza Dai Su 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 No La Quanto Poco 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 Mi mancava pochissimo E' questo qui No Non è uscito qua Dannazione Dai su Su Ultami Bello Wow Ma sei fortissima Ti sapevo Su Non Mi scappi Bello Wow Ma sei un grande Adesso come fai a andartene Eh A scemo A scemo Mio Ecco fatto Giochiamo Lui Almeno Ci facciamo la torre Vai Prendi torre Dai Magari Magari ci prendiamo pure L'altra seconda torre Ecco fatto E ultima patta Presa Perfetto Ora pushiamo qua Dai un'altra testata Dei quelle due Boh Sei arrivato Come pensavo di prenderlo Va la va la Va la va la Guarda Guarda che farm Ops Sglamati E che figo Dai su 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 Beh Se guarda la gente No 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 Sono morto Sono morto Sono morto Sono morto Sono morto E' perchè C'avevo tutte le cose Down Down Cioè Non avevo Abilità Dai su Prendetelo State attenti Fantastico Quello è morto E niente Questa parte è andata da puttane Guarda 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 Dai mo' lui Dai Prendi lui Su 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 Prendi lui Mangiatelo 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 Mastica 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 Non puoi masticare Niente Tanto lo so Non lo sa che Ah l'ha flashato Non vedi Pilone No niente Ok Io sto facendo schifo Come si poteva Immaginare Tranquillo Tanto non mi prendono Madonna Mia Guarda mi ci muove Pure lui Ah Ah che strano Chi l'avrebbe mai detto Uno Ah non vedi Chi l'avrebbe mai detto Ah 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 Quanto faccio ridere Grazie Dovevo farci lei Porca troia Ok Merda Vattene 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 Vabbè Se no Adesso hai sere in due No Perfetto Grazie GG Good job Qui Baron Non se ne parla Iiii Auti qua Stai attento E niente Ok Ci abbiamo che indietro Dobbiamo stare attenti qua Stai tancando la torre La luce Non penso che ti sia Molto conveniente Focussiamo questo 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 Ah ah E io non te lo faccio fare Ne Merda Sono morto Sono mortissimo Sono mortissimo Sono mortissimo Oddio Grazie Oddio mio Quanto sono enorme Non ci ho capito più niente Lui ci è morto E niente Penso che qui finisca La nostra partita È stato un piacere Per me E per voi Per tutti Con questa vittoria Vi saluto E ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.